Non stare al sole senza protezione. Solari, Bilboa, Carlin, abbronzano di più, più in fretta. Dov'è Silvia? Io non posso fare quello che vi aspettate da me. Silvia Principale. Peccato che sia morta 13 anni fa. E io te lo mi cerco. Lei deve distruggere quel quadro, deve, capito? L'angelo, vino. Dà la vita a Medea. Medea tornerà e stavolta la ucciderà, signora. Giuliana De Siro, Ben Gazzara, Massimo Ranieri, Maria Schneider, Anna Cigulla, Gabriel Garco. Per la prima volta in televisione, Maria Michela Mari. Regia di Roberto Rocco. Angelo Nero. L'ultima puntata stasera alle 21. Canale 5. Per la prima volta in isso. Quando c'è Coppertone, il sole non brucia La tua bronzatura è una meraviglia La pelle è più idratata Ma non dà arti troppe arie È merito di Coppertone Baciata dal sole, protetta da Coppertone 50 anni di ricerca dermatologica Cosa può darti un pannolino oltre l'asciutto? Dopo il bagnetto la pelle dell'anonisa è un bellunto Una pesca, da baciare, da mordere Prima chiuso nel vecchio pannolino Davo una sensazione di appiccicaticcio Da oggi ci sono i nuovi Pampers Premiums Gli unici con crema protettiva Hanno invisibili strisce di crema Che gradualmente rilasciano un velo di protezione Sulla pelle del tuo bambino Ed è veramente straordinario Adesso anche dopo ora la pelle è molto liscia Vellutata Ed è come dopo il bagnetto Nuovi Pampers Premiums Gli unici con crema protettiva La protezione oltre l'asciutto Santa Lucia Galbani È solo latte fresco È il gusto vero della freschezza E ci racconta cos'è È una goccia che stilla È un incanto e un incontro È la sveglia che trilla È il mattino che è qui È la pioggia che scende È vigilia di fiera È acqua di marzo Che c'era e non c'era È sì, è no È il mondo come È madama d'ore È burrasca passeggera È una goccia che stilla La sveglia che trilla È voglia di primavera È latte È freschezza È Santa Lucia Galbani Quando calienta il sol No se può disturbare la siesta Se può Se può Si sente Quando è estate Qualcosa di croccante I cracker grampavesi Hanno quel gusto che Fa tacere tutto il resto Grampavesi Una cottura dorata A prova di croc Cracker grampavesi Il piacere che fa croc Se comincia a cadere la notte Tieni gli occhi più accesi che mai Prossimamente Su Canale 5 Piccole storie Che ti cambiano la vita Grandi storie Che la vita la fanno Se ti piacciono le storie Se ami guardare Ascoltare E lasciarti raccontare Ci sono tante storie Tante storie anche per te Il pomeriggio Dopo Beautiful Su Canale 5 Dall'unidì prossimo Tutti i giorni Dall'unidì al venerdì Tante storie Canale 5 Ultradolce al kiwi di Garnier I capelli sono più brillanti Shampoo ultradolce Dal cuore delle piante Nasce la sua dolcezza Capelli più brillanti I più morbidi Da carezione Shampoo ultradolce al kiwi Garantito dai lavoratori Garnier Vengono dalle squadre Più forti del mondo Sono i campioni assoluti E non si abbassano mai A livello degli altri Per un semplice motivo Sono alti Sono molto alti Sono qui fuori Dobbiamo passare inosservate Devi depilarti sotto le braccia Hai un rasoio? Ho di merito Nuova crema a vesti? I stick Specifica per le ascelle Non scherziamo Con le zone sensibili Vez Missione impeccabile Solo la cura e la passione D'invernizzi Riescono a darvi mozzarella Una mozzarella così Irresistibile Chissà se anche oggi Chiederanno il bis Piano E' ancora fresca la mia mozzarella Com'è? Super lastica Mi piace Ne volete ancora? Sì Vado a preparare il bis Invernizzi La bontà è passione Coppa del nonno motta Nessuno come te Quanto vale la nuova tariffa Tim Per parlare con tutti i telefonini In tutta Italia Da tutta Italia Per chiamare i numeri di rete fissa Non solo in città Ma anche in provincia Sempre allo stesso prezzo 280 Ok Tim Famiglia cristiana Ha accesso al mondo I libri più importanti Sta per votare l'America E sono in gioco nomi come Hemingway, P. Gerald, Kerouac Dove si vicina Israele e Brasile Ecco l'America Yes Magnifico Manca solo la Colombia Sì Famiglia cristiana Ce l'ha fatta ancora I capolavori Della narrativa mondiale Del novecento In esclusiva Per i suoi lettori Ogni settimana Solo 7000 lire Il primo è Cent'anni di solitudine Bello bel Garcia Marquez Non l'ho letto Lo tenga E' molto fantastico Oh i miei nonni Finalmente Beh qui ci vuole un brindisi Alla nuova casa di Marca E alla sua nuova vita da singolo Candeggio sbagliato E strappete Dici? Ma per la candeggina? Sicuro? Io invece uso acce da una vita Pi smacchiare le camicie del nonno E come vedi mai problemi Ma da te c'è sempre da imparare Beh Ace smacchia a fondo Senza strap Face Affiliate